Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La primavera prossima sarà quella buona per avviare l'installazione dei nuovi numeri civici che mancano a centinaia di abitazioni di Nereto. Ci sono interi quartieri e nuclei abitati privi di targhetta, un vero ostacolo non solo alla compilazione dei form online da parte degli utenti residenti nelle abitazioni non contrassegnate, ma anche e soprattutto per gli operatori telefonici in fase di attivazione delle linee internet attraverso la geolocalizzazione e per i corrieri in fase di consegna di pacchi e corrispondenze. Con l'incremento dell'edilizia residenziale in quest'ultimo ventennio è aumentata anche la popolazione residente. Faceva parte delle linee programmatiche approvate nel luglio del 2018 dopo un lungo lavoro perché non è stato semplice. Da prima abbiamo affidato lo screening e la mappatura della situazione reale sul nostro territorio dove intere lottizzazioni da molti lustri erano prive della numerazione civica, alcune strade prive della toponomastica. È stato affidato a una società esperta del settore questo screening, è stato fatto il rilevo in questi anni, ci è stato rimesso il rilevo e adesso già da alcuni mesi abbiamo affidato a un'altra società questa opera pubblica a tutti gli effetti che non solo va a sanare una situazione anche ai limiti della sicurezza se pensiamo alle chiamate di pronto soccorso, le ambulanze o le forze di polizia o a una questione anche pratica che è quella del recapito della corrispondenza ma anche una riqualificazione urbana perché abbiamo scelto una targhetta non solo per il centro storico ma per tutto il territorio anche gradevole agli occhi sicuramente della cittadinanza. Questo sarà del tutto gratuito, non chiederemo oneri alla cittadinanza, i lavori partiranno comunque entro la primavera. C'è da risolvere anche il problema di intere vie senza denominazione. La commissione consigliare è al lavoro per utilizzare di base un vecchio elenco di toponimi mai introdotto.